Tre partite, tre vittorie, siete qualificate nella Final Four di Coppa Italia, sappiamo che vi piacciono le coppe. Sì dai, in questo momento per noi conta vincere, oggi abbiamo fatto una bella presentazione, adesso e poi guarderemo ogni partita dopo l'altra e pensiamo solo a vincere e poi alla fine sono sicura che la sicurezza arriverà per giocare proprio ancora molto meglio, però adesso conta solo vincere. Domenica il campionato, Scandicci, insomma di qui in poi, di solito si dice tutto è finale o comunque è chiaro che partiamo dall'ottavo posto, qua bisogna fare punti, bisogna vincere. Sì infatti adesso abbiamo finito un discorso, guardiamo ogni giorno dopo l'altro e guardiamo adesso domenica che dobbiamo prendere i punti, vincere, perché in quel momento conta solo quello, però sono sicura che come stiamo giocando possiamo veramente fare qualcosa, anche se loro sono una bella squadra, però credo che questa squadra adesso è pronta per giocare contro di loro. Ecco, siete cresciute, cosa vi manca ancora e cos'è invece un punto di forza vostra sul quale vi dovete così attaccare in questo momento? Sì, in questo momento guardiamo che le coppe stiamo andando bene, magari adesso il campionato serviamo ancora un po' più di sicurezza e adesso magari vincere conta, però prendere la sicurezza e andare ancora più forte è quella che manca ancora un po' il po'. Però sono sicura che in questo momento stiamo giocando bene un bel gioco e che abbiamo più sicurezza nel nostro gioco e stiamo cercando questo.